Se volete acquistare account moddati per GTA V a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi video veramente importante. Volevo farvi vedere delle novità che sono state scoperte su GTA V per il PC nel Map Editor. Ragazzi, sono delle novità veramente belle. In poche parole è stato scoperto un nuovo garage. Un nuovo garage che non è il classico garage, quello da 10 posti con tutte le luci a terra, tutto bianco, il classico. Ma è, ragazzi, un nuovo garage da ben 25 posti. E la location è diversa perché si troverà all'aeroporto, ragazzi. E poi tutto l'interno del garage, ragazzi, è completamente diverso, non è il garage classico. È gigantesco là dentro. E ci entrano fino a 25 macchine. Ragazzi, non è nulla di ufficiale, ma l'unica cosa a cui mi fa pensare questo garage è che lo potrebbero, diciamo, rilasciare in un nuovo aggiornamento. Anche nell'aggiornamento del finance felony, dell'aggiornamento del crimine che deve uscire prossimamente. Perché, ragazzi, hanno detto che ci saranno nuovi magazzini o nuovi appartamenti. Quindi, ragazzi, non capisco perché si trovi all'aeroporto questo garage, ma vi farò vedere, chiaramente, con gli screen che si trova all'aeroporto. E per vedere questo garage, in pratica serve GTA V del PC. Con il map editor possiamo, diciamo, entrare in questo garage, camminarci. E possiamo anche trovare un ascensore. Quindi, se c'è un ascensore, ci dovrebbe stare anche un appartamento. L'unica cosa strana è che è nell'aeroporto. Come fa un appartamento a stare nell'aeroporto? Questa è la domanda, ragazzi. Vi metterò gli screen anche delle macchine che ha fatto sponare il tizio. E vi lascerò anche degli screen dei garage. Il garage non è il classico, ma è veramente, diciamo, lungo e molto ampio. Quindi entrano 25 macchine. Ditemi nei commenti cosa ne pensate se la Rockstar rilascia un garage di 25 macchine. Ragazzi, veramente avremo tantissime macchine. Perché già ne possiamo avere 50 con i 5 garage che possiamo avere già adesso. Più 25, ragazzi. Possiamo ben avere 75 macchine. Cioè, ragazzi, una roba assurda. Una roba veramente assurda. C'è un sacco di spazio. E, niente, ragazzi. Volevo dirvi questa notizia. Ditemi che ne pensate, ragazzi, di questo garage. Ancora, chiaramente, tutto con le texture non è fatto bene. E questa censura, ragazzi, ci farà capire che ci sarà, in pratica, un appartamento o qualcosa, anche il magazzino sopra, che ci permetterà di salire con la censura. Non si sa, ragazzi. Sono dei rumors. E se sono stati trovati nel map editor vuol dire che la Rockstar potrebbe anche rilasciarli. Potrebbe finirli di costruire, di modificare. Quindi, per questo video è tutto, ragazzi. Iscrivetevi al mio canale. Lasciate tanti like. Ditemi la vostra qua. Vi piacerebbe avere un garage di 25 posti. E vi piacerebbe avere un garage così grande, con quella estetica, che chiaramente è da finire. E, niente, per questo video è tutto. Superiamo i 150 like. Commentate. Condividete questo video su tutti i social network. Taggate i vostri amici. Fate vedere questi garage particolari. Per questo video è tutto. Ci becchiamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.